Eccellentissimi Capitani Rizzetti, Presidenti, Sua Eccellenza Ambasciatore d'Italia, Signori Consiglieri, graditissimi ospiti, carissimi concittadini, Professoresse Mary Smonti e Maria Giovanna Fadiga Mercuri, il mio più sentito ringraziamento per la vostra presenza e per la sensibilità che avete manifestato e dimostrato nel seguire questo momento, che rappresenta un progetto comunque importante per la Repubblica di San Marino. Ringrazio in maniera particolare la Regenza che ha compreso e sentito l'importanza di questo progetto. Uno speciale messaggio di affetto va al Presidente della Repubblica Italiana perché non solo ha apprezzato il contenuto del progetto Memory of the World, ma addirittura ne ha fatto menzione nel suo discorso a Brindisi d'Onore durante la sua visita, portandolo come esempio di potenziali collaborazioni che si possono sviluppare tra Paesi del contesto europeo. Memory of the World è un progetto UNESCO, un progetto che ha la funzione di valorizzare e promuovere il patrimonio documentario dell'umanità. Per sottolineare l'importanza cruciale della memoria, del saper plasmare il nostro presente e costruire il nostro futuro, partendo dalla memoria storica, partendo dai libri. San Marino può interpretare una testimonianza tangibile della ricchezza culturale e della memoria collettiva dell'umanità, perché attraverso le epoche siamo stati teatro di avvenimenti straordinari, abbiamo resistito a sfide, abbiamo contribuito a plasmare il percorso del nostro Paese in modi unici a volte. E Memory of the World può essere anche la testimonianza dell'importanza di quel patrimonio documentale che è custodito nei nostri istituti culturali, che è custodito nel nostro archivio di Stato, ma anche nei nostri musei. Ma anche un'altra valenza. È un progetto per la prima volta tra tre Paesi. È un progetto quindi che viene portato come novità mondiale, perché questo manoscritto racconta di due uomini che hanno lasciato le coste oggi della Croazia, allora della Dalmazia, sono venuti sulla penisola italica, hanno poi creato delle comunità. Queste comunità sono divenute una uno Stato indipendente, una attraverso i secoli e la storia, comunque svolto un ruolo importante, fu anche per un breve periodo capitale del Regno d'Italia. Questo percorso quindi accomuna nella storia le nostre realtà in un abbraccio, quello del mare Adriatico, che può dare un segnale anche al resto del contesto europeo di possibili e potenziali collaborazioni tra Stati con diverse storie, con diverse grandezze e con valori condivisi. È un momento particolare per la storia della nostra Repubblica. Siamo veramente nella immediatissima vigilia dell'ingresso in un progetto come quello europeo ambizioso e importante, che però ha bisogno di esempi per comprendere come essere protagonisti di un'area come quella europea, che è un'area sicuramente per prima economica, ma poi è anche culturale. È un'area dove ci sono numerose opportunità. Quelle opportunità però non sono scritte. Quelle opportunità le dobbiamo costruire. Questo tema ha delle potenzialità culturali che possono essere un messaggio, perché non è un traguardo, ma è una tappa di un progetto. Ecco, attraverso la costruzione e la relazione tra San Marino, l'Italia e la Croazia, non dimentichiamola, possiamo poi costruire, lo dico guardando il direttore della nostra San Marino RTV, che ringrazio per la presenza, si possono costruire documentari, si possono progettare percorsi che possono toccare varie tematiche, che possono essere oggetto anche di bandi e di reperimento di finanziamenti. Ecco, questo è il messaggio della cultura, questo è il messaggio di progetti culturali di questa portata. E per queste ragioni che voglio ringraziare, in particolare l'ambasciata della Repubblica Italiana a San Marino, in particolare l'ambasciatore, perché è stato un po' il capofila, lui l'ambasciatrice, nel proporre questo ambizioso progetto. Ringrazio l'ambasciatore della Repubblica Croata in Italia, nella Repubblica di San Marino, il professor Mesic, e soprattutto per le potenzialità e lo sviluppo che può avere. Ma non dimentico anche gli istituti culturali, uno per tutti il dottor Rondelli, ma anche il nostro ambasciatore della Repubblica di San Marino in Croazia, la dottoressa Marina Emiliani, che ha comunque svolto un ruolo importante di costruzione e di collegamento. Come vedete, ci sono stati tanti attori, tante persone, che hanno dato un contributo importante a questo progetto, che io mi auguro possa essere solo una tappa, come dicevo, di un percorso, ma soprattutto, eccellenze, cari concittadini, possa semplicemente svolgere una funzione di servizio, essere di esempio sulle potenzialità che abbiamo davanti nel lavorare e nell'essere concittadini e con partecipi degli altri paesi d'Europa. Eccellenze, vi ringrazio. Buonasera a tutti, ringrazio sentitamente le loro eccellenze, Grazie a tutti i capitani reggenti Filippo Tamanini e Gaetano Troina per l'opportunità che ci è stata offerta di poter esporre alla loro presenza il primo frutto di un percorso di lavoro che ha portato a candidare, appunto come diceva il segretario Belluzzi, questo manoscritto della vita a Sanctorum Marini e Leonis come memoria del mondo e ringrazio di poterlo fare in questo luogo che è così significativo proprio per la storia e per la vita della nostra Repubblica. Adesso comincio. Una piccola premessa. Si tratta di un testo ageografico, cioè un testo che racconta la vita, in questo caso, di due Santi e la geografia per molto tempo è stata relegata nel ruolo di racconto leggendario, con scarse fondamenta e Claudio Leonardi, storico esperto in questo settore, dice proprio esplicitamente in questa conclusione che è una delle conquiste della storiografia di questo dopoguerra che ha via via sempre più concepito lo studio dei Santi e delle scritture sui Santi, la geografia, non più come un momento della storiografia ecclesiastica, se non del devozionismo ecclesiastico, ma come un momento a pieno diritto della storiografia vera e propria. Il che significa che non tutto quello che è contenuto nel testo della vita dei Santi Leone Marino appartiene alla realtà, al dominio della realtà, sicuramente. Ci sono una serie di, possiamo dire, di invenzioni, anche di aspetti simbolici, ma il percorso che abbiamo iniziato, diciamo, a compiere è stato quello proprio di cercare e in questo il professor Paolo Prodi ci ha sostenuto, ci rincuora con questa sua frase accanto appunto alle informazioni che ci vengono dalla vita del Santo le testimonianze letterarie e archeologiche che non soltanto integrano la vita ma talvolta introducono nuove informazioni. Per esempio, una strada che indica e che sarebbe bello poter percorrere è proprio quello di partire dalla ricerca intorno alla prima comunità monastica che era sorta sul Monte Titano e di cui noi abbiamo una testimonianza documentaria del VI secolo. Il manoscritto che è esposto nell'Atrio è un passionale che proviene dall'Abbazia di Bobbio. In questo manoscritto, dicevamo, è contenuta la versione più antica conosciuta fino ad oggi della vita Santorum Marin Leonis insieme alle vite di almeno 50 santi provenienti dalle diverse parti d'Europa. Il passionale è un testo usato come strumento di preghiera perché nella liturgia veniva letta e ricordata la vita del Santo di cui in quel giorno ricorreva la memoria. Questa memoria per Bobbio, abbazia che si trova nella Val Trebbia vicino a Pavia era il 3 settembre. Due parole su Bobbio. L'Abbazia di Bobbio è fondata da San Colombano che è un monaco irlandese di origine irlandese che ebbe una vocazione molto precoce alla vita monastica e che crebbe, diciamo, di età e nella fede nel monastero di Bangor nel nord dell'Irlanda e da lì con un gruppo di altri 12 monaci ci raccontano le storie della sua vita partì per quella che i monaci cistercensi di cui irlandesi di cui lui faceva parte appunto chiamavano Peregrinazio Prodomino cioè una sorta di cammino che aveva come scopo la missione cioè diffondere il Vangelo ma anche diffondere la cultura perché una delle prerogative dei monaci irlandesi era proprio quella di raccogliere e copiare gli antichi manoscritti sia della letteratura latina sia chiaramente della patristica delle vite dei santi, della geografia. Scende da Bangor e attraversa il mare attraversa la parte meridionale della Gran Bretagna e poi tutta la Francia con diverse tappe nelle quali alcuni dei monaci si fermavano per fondare altri monasteri. San Colombano che è un santo forse poco noto da noi in Italia in verità è uno dei patroni d'Europa e non solo lui ha attraversato una buona fetta di quella che noi oggi chiamiamo Europa ma è stato uno dei primi a usare questo termine all'interno delle sue lettere al Papa e quando scrive nell'anno 600 a Papa Gregorio I lo definisce un fiore luminosissimo di un'Europa tutta in decadenza e sotto quando scrive a Bonifacio IV qualche anno dopo lo chiama padre di tutte le chiese dell'intera Europa quindi il concetto di Europa che noi pensiamo come forse moderno un frutto della modernità in verità vedete ha radici antichissime è anche per questo motivo che sottolineiamo il fatto che in quel manoscritto è contenuta più volte la parola Europa ovviamente non è intesa nel senso geografico moderno ma nel senso proprio di una comunità di popoli diversi perché nelle lettere di San Colombano c'è anche questo come vi dicevo questa abbazia che San Colombano fondò a Bobbio praticamente due anni prima di morire e lì è sepolto e divenne nel giro di pochissimi decenni veramente un centro culturale importantissimo perché c'era uno scriptorium molto attivo e c'era anche una raccolta di testi quindi una biblioteca molto importante e i dati ci dicono che nel 982 quindi siamo ancora nel primo millennio custodiva oltre 700 codici che sono una ricchezza se voi pensate alla lentezza e al tempo che occorre per copiare un codice vi rendete conto della ricchezza e del valore di questo patrimonio e tra l'altro ebbe per lungo tempo proprio il primato di produzione di manoscritti voi direte come mai in un passionale di Bobbio così lontano dai luoghi in cui San Marino secondo il racconto della sua vita ha operato noi troviamo uno spazio che è significativo dedicato proprio a questi due santi dalmati il legame è con Pavia nasce con Pavia quella che vedete nella foto che è piccolina è la chiesa di San Marino a Pavia e nel secolo VIII i Longobardi ebbero lì la loro capitale e Astolfore dei Longobardi che si era convertito al cristianesimo e aveva promosso la conversione al cristianesimo anche di tutto il suo popolo era veramente un cacciatore di reliquie diremmo noi oggi nel senso che la sua fede di recente acquisizione lo portava ad accumulare testimonianze fisiche proprio della vita e della persona dei santi e per molto tempo si è creduto che il corpo di San Marino come lui aveva detto si trovasse proprio a Pavia perché lui l'aveva lì portato e questo fece nascere un culto del Santo Dalmata nella città di Pavia e in molti centri diciamo del sud della Lombardia e dell'Emilia quindi il legame San Colombano-San Marino abbazie di San Colombano-San Marino è stata una delle piste storiche che mi ha guidato nel cercare di vedere se si poteva replicare cioè se poteva essere presente anche in altri luoghi perché appunto lì c'era una ragione storica cioè la presenza dei Longovardi e anche nelle zone vicine uno dei manoscritti si trova a Como proviene da un'altra abazia cistercense Morimondo questo è l'abside medievale della chiesa perché chiaramente la chiesa poi ha subito una serie di rimaneggiamenti nel corso dei secoli vi dicevo il legame tra i monaci di San Colombano e il culto di San Marino si ripete e anzi trova conferma nella città di Bologna a Bologna si trova un antichissimo complesso monastico che oggi non è più usato per il culto ma che ospita un bellissimo museo di strumenti musicali antichi che è il Museo Tagliavini bene, in quel luogo in pieno centro storico vicinissimo a San Pietro la cattedrale di San Pietro a Bologna c'era un'antichissima abazia di cistercense dei monaci di San Colombano fondata proprio da qualcuno dei monaci di Bobbio che si erano spostati ma praticamente subito perché all'inizio del VII secolo addirittura ci sono fondi che inducono a pensare che il vescovo di Bologna Pietro I nel 616 quindi ancora vivo Colombano si sarebbero spostati a Bologna ma anche il culto di San Marino era presente a Bologna e questo è molto meno nota perché esisteva in via di Porta Nuova alle spalle della cattedrale di San Francesco a Bologna una chiesa parrocchiale attestata proprio da antichi documenti dedicata a San Marino uno studioso dell'Ottocento che pazientemente aveva cercato di attribuire a tutti i palazzi a tutte le vie diciamo così innanzitutto una nomenclatura più possibile storicizzata ma anche una serie di dettagli dell'uso dice proprio che questa parrocchia esisteva prima del secolo XIII c'è un rogito e questo è un documento quindi che dice che esisteva nella contrada di Porta Nuova la contrada di San Marino perché la prima parte della via probabilmente aveva questo nome là dove si trovava la chiesa oggi purtroppo la foto fa capire che questa chiesa oggi è un'autorimessa non è più né ufficiata ma anche ha perso gran parte delle caratteristiche che poteva avere la parrocchia doveva avere dei terreni in una zona che allora era considerata periferica perché è molto vicina alle mura tra Porta San Donato e Porta Mascarella e praticamente quella che oggi è Via Ernerio in quella zona lì ci dovevano essere terreni e anche terreni paludosi perché in fondo alla via vedete c'è Braina di San Donato la Braina era di solito un terreno paludoso un terreno acquitrinoso in cui filtrava l'acqua e poi bonificata evidentemente e successivamente edificata in quella zona è attestato questa zona con il nome di Borgo di San Marino esiste anche una lapidetta marmorea che ancora conservata ci dice che si chiamava così e addirittura questa denominazione era contenuta negli statuti bolognesi della fine del XIII secolo del 1290 parla di una strata Burgus Sancti Marini quindi esisteva il culto di San Marino anche a Bologna non solo ma la chiesa in cui veniva ufficiato e che lo ricordava doveva essere anche una parrocchia di una certa importanza se aveva questo indotto di terreni la toponomastica poi è stata modificata e tra l'altro il borgo lì divenne semplicemente via San Marino e poi da lì parte la strada che va verso Bentivoglio in cui ancora oggi invece è visibile è visitabile ed è ancora ufficiata una basilica dedicata a San Marino quindi il culto non era solo in città ma anche nelle campagne vicine sono in corso ricerche per trovare altri luoghi e altre testimonianze certificate della presenza del culto di San Marino fino alle nostre zone voi sapete che qui intorno abbiamo diversi edifici sacri dedicati al santo ma in particolare il culto era presente a Rimini uno dei luoghi che secondo appunto il testo della vita Santorum Marini e Cleonis è stato il primo approdo nel viaggio dei due santi la chiesa oggi è più nota col nome di Santa Rita era dedicata a San Marino solamente poi a lei venne associata la parrocchia di San Bartolomeo di cui era stata chiusa la chiesa e quindi oggi si chiama chiesa dei santi Bartolomeo e Marino un parroco che ha retto quella parrocchia negli anni trenta ha lasciato un testo scritto nei quale lui racconta anche le sue ricerche i suoi studi le sue letture perché facendo dei lavori di restauro del pavimento di quella chiesa e quindi tolto il vecchio pavimento emersero dei conci di pietra anzi proprio un tracciato di mura che formavano un rettangolo di circa 50 metri quadri potevano risalire appunto al quinto secolo e cita a sostegno di questo un manoscritto di un parroco precedente dell'inizio dell'ottocento che evidentemente aveva avuto contezza del fatto che nel quinto secolo la comunità di Rimini aveva fondato questo oratorio per dedicarlo al santo gli dice 40 anni o circa dopo la di lui preziosa morte questo è il retro dell'altare questo sostegno è evidentemente una pietra lavorata un blocco di pietra lavorato sicuramente di età tardo-romana nella scheda descrittiva di quella chiesa depositata presso il catalogo dei beni culturali a Roma vedete che la cronologia indica il secolo quinto come dato di origine del primitivo oratorio quindi siamo veramente molto vicini all'epoca che il nostro manoscritto attribuisce come quella della vita del santo in cui il santo effettivamente è stato a Rimini la chiesa ha un chiostro costruito nel 1400 esiste tuttora un pozzo che dà acqua ancora oggi e che la tradizione vuole sia stato costruito da San Marino stesso le acque che sgorgavano da questo pozzo sono sempre state usate dai fedeli come cura miracolosa per le febbre allora quella vera da pozzo il parroco ci ha detto che era del chiostro del Duomo che sorgeva dove c'era l'antica chiesa di San Francesco il convento dei Francescani a Rimini ed è in pietra di San Marino vuol dire che questo scambio e questo trasporto di oggetti ricavati dalla pietra del nostro monte nella città di Rimini esisteva ed è continuato ad esistere anche successivamente a quello che viene raccontato nel manoscritto e tra l'altro questo Monsignor Galavotti riporta dei distici che erano in una lapide sul muro del chiostro quattrocentesco che stiamo ancora cercando perché sembra che non si riesca a ritrovarli questa pietra incisa comunque quello che si dice nel 1400 è che in quella data si è restaurato il pozzo che quindi esisteva anche precedentemente a quella data possiamo chiamare tutti questi esempi che vi ho mostrato delle prove della verità storica del nostro testo forse no però sono sicuramente degli indizi molto interessanti e in quanto indizi invitano alla ricerca invitano alla domanda e forse vale la pena considerare effettivamente mettersi nell'atteggiamento anche leggendo questo testo che raccomandava Claudio Leonardi cioè quello di trovare tutte le tracce storiche che comunque sono sottese ai testi ageografici ma adesso è il momento di ascoltare invece la professoressa Fadiga che vi parlerà del manoscritto in maniera più diretta inizierò il percorso proprio sfogliando insieme a voi il manoscritto questo è un filmato che ci è stato mandato dalla biblioteca nazionale universitaria di Torino che possiede il codice quindi la proprietà del codice si trova in Italia come vedete è molto corposo sono 230 fogli esattamente è anche voluminoso nel vero senso della parola cercherò di descriverlo mentre lo guardiamo e di avvicinarmi al testo secondo le regole dello studio di un manoscritto che si applicano per un'indagine di tipo filologico alcune cose che dirò alcune parti saranno molto tecniche mi scuso in anticipo perché saranno anche un po' pedanti ma sono necessarie e ringrazio il magnifico rettore della sua presenza perché un filologo della sua levatura mi fa davvero piacere ma è anche una certa emozione parlare di fronte a lui se fate caso il materiale scrittorio è la pergamena quindi è un volume antico di un materiale antico con una serie di ferite per così dire che segnano anche appunto la sua vetustà rivestito in legno nel 1400 circa quindi la coperta è stata sostituita ma non doveva essere molto diversa dalla coperta originale è composto di fascicoli di circa otto fogli ognuno di più mani sicuramente tre poi viene una quarta quattrocentesca e questo è il primo foglio della storia della vita di San Marino e Leone si colloca circa verso il terzo la terza parte di questo manoscritto perché siamo in settembre quindi segue il calendario l'inchiostro lo vedremo dopo nel dettaglio è un inchiostro particolare tutti questi elementi servono a datare il codice ma un elemento sicuro è il punto di partenza della fondazione del monastero di Bobbio quindi del 614 non si può andare più indietro per quanto riguarda la materialità cioè siamo sicuri che l'oggetto non può essere nato prima ma sul testo vi sono alcuni elementi che sono secondo me delle certezze che ci portano a datare il contenuto ripeto il contenuto di qualche secolo più indietro altri dettagli che possiamo notare soprattutto sono di tipo paleografico cioè la scrittura la scrittura è una minuscola carolina anche questa è un elemento di datazione sicuramente in dubbio perché la minuscola carolina come dice il nome è un parto del sacro romano impero quindi dell'esistenza di Carlo Magno che intelligentemente crea una nuova formula grafica per unificare non solo dal punto di vista politico ma soprattutto dal punto di vista culturale i materiali dispersi soprattutto di tipo religioso che vengono raccolti vengono conservati nei diversi monasteri come potete notare è molto uniforme graficamente anche se come ho detto sono più umani proprio perché questa scrittura è leggibile facilmente riproducibile e caratterizza uno schema di pagina che tuttora noi conosciamo come potete vedere adesso vedrete dall'ultimo foglio il codice si interrompe manca qualcosa ma nel suo complesso è abbastanza fedele all'originale un dettaglio interessante che serve a motivare la sua origine è dato da alcuni fogli che sono stati abrasi e riscritti questi fogli dopo una serie di indagini dimostrano che erano stati scritti in una grafia che viene chiamata irlandese quindi erano stati portati a spalla dai monaci che erano calati secondo quel percorso che avete visto in precedenza e di fronte alla necessità di integrare con del materiale che altrimenti sarebbe stato difficile da ricreare reperire perché per fare una pergamena ci voleva parecchio tempo vengono praticamente cancellati con un bisturi così dovete immaginarlo è un testo non sacro era un calendario quindi questo sta a provare che la comunità irlandese si occupava di testi di varia natura benché fosse appunto una comunità monastica la prima parte trovare il codice adesso dirò un po' di nomi latini è denominata invenzio il ritrovamento degli oggetti degli oggetti materiali quindi dei manoscritti quando si arriva a possedere un certo numero di questi oggetti vanno confrontati e questo schema ci fa vedere quanti sono i testimoni del racconto della vita dei santi Marino Leone ne abbiamo sei per il momento perché io spero che ce ne siano ancora anche più antichi la colonna di sinistra riporta i dati del più antico cioè quello che abbiamo qui al piano inferiore i dettagli li vedete 231 fogli la vita di San Marino è la 36esima perché sappiamo che appunto è settembre ma il dato importante che vorrei farvi notare è che occupa 18 carte carte, fogli scegliete voi insomma ci sono delle denominazioni più settoriali 18 sono tante se fate il calcolo del totale di 230 quindi c'è stato un dispendio materiale e contenutistico per descrivere la vita di questi due santi se fate il confronto con le altre vedete il secondo sono solo sei ma sappiamo che è privato di una parte non sapremo mai quanti erano state esattamente 14, 14 18 e 9 il numero analogo del codice bolognese è molto interessante perché il codice bolognese è più tardo e soprattutto non è scritto in minuscola carolina è scritto con una grafia locale che viene chiamata l'itra bononiensis che era la grafia tipica dell'ateneo dell'università aveva partorito una sua scrittura che serviva per copiare i testi che venivano utilizzati nell'ambito accademico questo perché è interessante perché oltre all'aspetto grafico quindi vuol dire che già due secoli dopo ancora viene riprodotto un passionale secondo i canoni precedenti quello che è interessante è l'elenco dei santi bisogna tenere presente che ogni volume ogni codice ha dei santi diversi propone dei santi diversi in base alla zona in base a determinati elementi di culto ma San Marino e Saleo sono il comune denominatore questo è già un primo elemento molto interessante quando si è fatta questo confronto la collazio si arriva dopo aver eliminato dei codici che non servono a formulare quello che si chiama lo stemma codicum cioè l'albero genealogico questo non l'ho fatto io è trilustre di 15 anni fa non sono in grado di riformularlo ancora il nuovo stemma codicum non dovrebbe essere troppo diverso ma vi faccio notare che il nostro manoscritto è quassù ed effettivamente è molto antico ci sono dei codici che sono indicati con lettere greche che sono codici che non esistono che si immaginano l'archetipo cioè quello che l'autore con le sue mani con la sua penna avrebbe scritto in questo tema codico ma è collocato nel nono secolo io credo che sia più antico se notate vi è un secondo codice sempre con una lettera greca che si pone si inframmezza fra quello reale che sta al piano di sotto e quello ipotetico che esce dalle mani dalla penna del creatore questa è una teoria che va approvata molto probabile perché sulla base linguistica ci accorgiamo che ci sono due livelli un livello più antico e un livello leggermente più recente che non possono essere frutto di una sola persona perché si sovrappongono cronologicamente ultima osservazione su questo stemma codicum è questa linea dritta che parte da un codice che esiste esisteva in quello specchio e va direttamente come vedete in un secolo moderno diciassettesimo perché un membro un erudito della famiglia caetani famiglia romana importante l'ha copiato letteralmente parola per parola questo codice caetani è uno dei primi che andrò a vedere a Roma perché una coppia anche posteriore secondo una tendenza relativamente recente della filologia può essere altrettanto valida perché ovviamente traccia una linea diretta con un testo originario più antico questo è l'interno del legno la parte linea che avete visto che ha lo stemma sabaudo perché venne acquisito dalla biblioteca di Torino ma soprattutto ha l'elenco dei santi che ripeto sono santi scelti dal territorio con delle motivazioni precise vorrei far notare come le passioni sono queste e poi vi sono le vite quindi ci sono i santi martiri e i santi normali non so come definirli le vite sono molte meno e cominciano a un certo punto perché perché secondo un'ipotesi che è stata formulata già nel settecento la prima parte il primo nucleo vi ho detto che sono più umani proviene da un codice che arriva dalla chiesa d'oriente lo provano i santi che sono elencati sono santi nicandro trifone sono santi non abituali per noi qua e la chiesa d'oriente si viene a formare e questo lo sappiamo in un determinato periodo ci sono una serie di concili in più la creazione anche di sette di varianti pensate all'arianesimo e così via portano questi testi ad arrivare dalla parte occidentale ad essere assorbiti in determinati monasteri e dopo cominciano le vite questo è un dettaglio che teniamo presente vi è un'invocazione nel verso del primo foglio che testimonia la presenza direi quasi angosciata del copista il monaco chiede la benedizione chiede l'aiuto di dio prima di intraprendere l'atto della copia perché quello di essere copisti è un atto di fede non è un mestiere e due parole sulla figura del copista perché bisogna tributare anche onore a chi fa il lavoro materiale e anche perché sono personaggi a volte simpatici e curiosi l'inchiostro che usavano era quasi brevettato per così dire ogni monastero aveva il proprio la sua durevolezza era la garanzia del messaggio per la posterità ed era di origine vegetale quindi alla base ci sono le galle delle querce estremamente naturale legate con dei solfati con del materiale ferroso tanto che questo inchiostro viene chiamato ferro gallico è l'inchiostro tipico di un certo periodo ancora una volta elementi materiali per l'adattazione il copista fa un lavoro infame abbiamo una prova qui in un testo dell'ottavo secolo sta scrivendo questo copista prima dell'arrivo della Carolina in una scrittura terrificante la visigotica già il nome ha una certa paura e scrive carissimo lettore lavati le mani prima di prendere il libro cosa che tuttora rispettiamo volta le pagine con calma leggi con calma perché chi non sa scrivere crede che questo sia un lavoro da niente e invece la scrittura è molto difficile molto difficoltosa opprime gli occhi distrugge la schiena e intristisce al contempo tutto il corpo poi frase bellissima tre dita scrivono tutto il corpo lavora e come il marinaio desidera giungere al proprio porto così è lo scrittore all'ultima pagina pregate per martirio indegno sacerdote o scrittore quindi sono due mestieri diversi e questo veramente è uno dei delle testimonianze più commoventi ve ne sono altre a volte scrivendo lasciano lasciavano dei segni noi scriviamo ok o n b e loro mettevano le manine le manicule a volte si rappresentavano loro stessi si ritraevano nelle lettere capitali e a sinistra il monaco che beve dalla botte è un po' boccacciano a destra il pittore questo è un miniatore che rappresenta se stesso e lascia il suo nome quindi sappiamo anche come si chiamava si chiamava fraruffillo questi smile li ho messi per consolare il copista che qui ha fatto degli errori particolarmente pesanti e questo è il nostro manoscritto in una di queste vite precisamente la vita di San Dionigi abbiamo la prova che stesse copiando dal greco e questo è un altro degli elementi che collocano i manoscritti in una determinata frazione temporale perché copia il greco letteralmente le maiuscole vedete lo stampatello diciamo così e scrive Makarios Dionisos che vuol dire San Dionigi ma Makarios vuol dire San perché non non traduce se ne accorge nella carta successiva scrive Beatus ha capito la traduzione ma non ha capito come si scrive Dionisos perché la S invece sembra una C ma non è una C è un Sigma Lunato che è parte di un discorso molto più ampio ma ci colloca il testo nel mondo grecofono questa è la prima carta o primo foglio la lettera capitale ha qualche minima doratura questo particolare effettivamente in un manoscritto di un monastero dà una chiave di lettura di estremo interesse ci fa capire che viene investito del denaro oppure che viene commissionato in questo modo perché forse deve avere una destinazione più prestigiosa le righe che vedete sopra sono righe successive qui siamo nel 1400 questa è una corsiva di quel periodo si va verso la modernizzazione se si può notare la dimensione delle lettere che è molto più moderna per così dire e la trascrizione è questa questo passione è una certificazione appartiene ai monaci della congregazione di Santa Giustina dell'ordine di San Benedetto come ha detto prima la professoressa Monti vennero assorbiti i monaci irlandesi nella regola benedettina che si trovano residenti nel monastero di San Colombano di Bobbio e viene scritto sotto il numero 121 quindi c'è un inventario e vi è anche una data 1461 sappiamo quindi che nel 1461 lo stavano ancora utilizzando o comunque tenendolo caro guardiamo un po' di magagne del manoscritto qui ci sono delle cicatrici delle suture chirurgiche si rompevano venivano ricuciti e questo è uno dei più divertenti perché c'è un buco un foro nella pergamena il copista non osa scartarlo sono preziosi e continua a scrivere intorno al buco per cui qua si legge margaritas che vuol dire che è una parola che vuol dire gioiello e gira intorno a questo foro che è parte della pelle della pecora che aveva in partenza vi è una sola iniziale particolarmente elegante che è questa P che è l'atto di nascita del manoscritto con DNA irlandese lo vediamo da questo animaletto un lupo comunque un animale vorace perché sta divorando un altro animale che forma uno di questi geroglifici questi disegni tipici della cultura irlandese è verde non si vede molto qui ancora un buon verde con dell'inchiostro nero quindi si stacca da questo color seppia dell'inchiostro ferrogarlico questi erano i manuali che i monaci irlandesi utilizzavano per riprodurre le lettere quindi la lettera P è quasi sempre con quei moduli con delle piccole varianti però come vedete effettivamente è una certificazione la decorazione zoom orfa è proprio tipica della cultura dei manoscritti irlandesi qui vediamo alcuni esempi ogni volta che c'è un puntino vuol dire che c'è un occhio i manoscritti irlandesi sono stupefacenti sono meravigliosi e quindi effettivamente avere anche solo una lettera capitale nel manoscritto del passionale ci aiuta a apprezzare ancora di più questo documento l'iconografia irlandese come vedete si può notare dai colori questo Cristo ha i capelli biondi la barba rossa i due angeli hanno tutto tranne che l'aspetto angelico entriamo nel testo un'analisi velocissima però quei numeri ci servono a capire come il latino di questo di questa narrazione sia un latino ricco un latino elaborato medievale certamente ma non del tutto cioè con moltissime ascendenze classiche questa è la prova del ritmo narrativo della retorica classica il cursus il cursus è il modo di recitare che tuttora noi abbiamo l'abbiamo conservato noi parliamo latino moderno non parliamo italiano è un paradosso quello che sto cercando di fare però per dimostrare come se lo leggo con un ritmo come il testo mi indica di fare ho qualche cosa che conosciamo per cui dovrei dire temporipus diocleciani maximiani imperatorum quando persecuzionis tempestas cattolicam christianorum ecclesiam pertotum orbe interrarum dispersam tiranni carabie tostilbus gladis devastabat sentite che è quasi un salmodiare i verbi che sono i verbi reggenti anche loro hanno un ritmo perché devastabat e decorabat sono della stessa lunghezza l'ultimo che è quello che chiude tutto inseque e si ferma sentite come è complicato se poi contiamo i numeri di queste battute vediamo che dal tre abbiamo questo aumento verso il quattro e poi si richiude sulla valenza la trivalenza quindi davvero c'è un'arte estrema in più traducendolo viene fuori un testo barocco con questa rappresentazione della chiesa cattolica come la sposa di cristo ornata di gioielli che sono il sangue dei martiri insomma sono figure molto potenti che derivano da una retorica antica la parola europa compare quattro volte nella seconda carta o secondo foglio ed è da lì che abbiamo tratto il titolo che è questo ho spezzato il testo in questo modo per far notare anche qua come la descrizione dei popoli che vengono coinvolti sia davvero significativa non è una migrazione ma è una scelta di persone capaci di magistri che hanno delle competenze che hanno soltanto loro quindi sono indispensabili per l'opera di restauro delle mura così come narra la vicenda altro termine che intanto per far vedere come il testo classico riecheggi spesso questo favore reggio compulsi è un sintagma che si nota per esempio nella favola del lupo e dell'agnello famosissima lupus etanus siti compulsi cioè ci sono delle eco di testi che erano notissimi chi ha scritto questo testo era colto sicuramente aveva davanti o aveva nella mente una libreria di letteratura latina più si va avanti cioè più si va nei secoli vicino a noi e più questo è improbabile per cui è più probabile che fosse vicino all'epoca di cui lui sta narrando è un'ipotesi e Castanamentati l'ho sottolineato perché vuol dire che tutti questi saggi questi artigiani sapienti vengono collocati in una città di tende che viene fatta vicino alle mura di Rimini quindi vengono accolti con un'organizzazione vengono utilizzati con attenzione nell'ultima riga vediamo che vengono nominati finalmente i nostri santi uno a nome Marino uno a nome Leo e l'altro viene chiamato Marino e questo invece è una citazione evangelica perché la predicazione degli apostoli viene fatta due a due andate due a due lasciate il manto eccetera e vengono quasi dipinti come degli apostoli hanno una missione non è solo un lavoro per il costruire delle mura ma in quello vi è la missione dell'evangelizzazione che come diceva la professoressa riecheggia quella che poi verrà fatta dai monaci irlandesi un altro errore simpatico del nostro copista è questa parola lasciarono le loro città e i dolci nati cioè i figli ma qui non c'è scritto dolci è scritto ducibus non dulcibus chissà forse il copista non si è distratto forse non conosceva bene il testo non conosceva bene il latino sicuramente riecheggia Virgilio forse non conosceva Virgilio e allora vuol dire che siamo ancora più avanti rispetto all'epoca di quel latino ma sono sempre ipotesi adesso entriamo nei personaggi il personaggio chiave uno dei personaggi è il demonio il demonio come caprone è tipicamente medievale il demonio di Dante come viene raffigurato con le ali da pipistrello eccetera è un'immagine del medioevo il demonio che incontra che tenta San Marino in questo racconto non è quel demonio lì perché si parla di Fauci del Tartaro Dio che sta nelle sedi dell'Olimpo nel regno dell'Olimpo questo è pagano e le citazioni queste sono sperimentate ma ce ne sono tantissime sono odiatori classici Virgilio Svetonio Tacito Varrone e tanti altri e a un certo punto il demonio i termini sono diversi perché il demonio o demone è un genio e questo è il genio classico un essere con un corpo umano e con delle ali il demonio originario è il serpente e qui viene rappresentato appunto nell'immacolata concezione ma il serpente è comunque un mostro dell'antichità sicuramente non è il caprone c'è una frase interessantissima perché il demonio viene visto anzi attacca San Marino attraverso la presenza femminile come un serpente con una triplice gola avvelenata triplice gola è un po' difficile per un serpente però c'è un essere che ha tre gole ed è Cerbero e Cerbero è classico e non è un demonio nel medioevo perché sappiamo che Dante lo inserisce nell'inferno con un ruolo diverso certamente sì demoniaco perché tutto l'inferno è demoniaco ma non è quella caratterizzazione che conosciamo di più e allora il divertimento a questo punto solo mio forse del filologo è quello di cercare i termini la rete ci offre la consultazione di vocabolari che semplifica moltissimo la vita due in particolare sono i vocabolari uno è quello di tutta la latinità e l'altro è quello della latinità del medioevo nella latinità del medioevo questa parola che vuol dire tripartito come le tre punte di un forcone non compare o meglio compare ma di retaggio classico se lo vado a cercare il vocabolario classico come vedete le concordanze sono tantissime Plinio Valerio Flacco Ovidio quindi è un termine classico stanno usando una capacità di composizione che davvero lo rende antico il demonio rappresentato in forma umana appare in un vangelo quindi siamo in un testo sacro siriaco del 580 lo vedete qua molto semplice l'indemoniato in cui il demonio vola fuori e lo ritroviamo in un manoscritto circa del VII secolo VIII secolo e qui vediamo chiaramente questa specie di Eros che in realtà è il male è Cristo che scaccia l'indemoniato l'ultimo personaggio è la donna la donna è duplice c'è una donna antica e una donna moderna per così dire la prima donna è la moglie che arriva da Arbe rivendica il suo diritto al coniugio la seconda donna è una donna romana che possiede il territorio probabilmente per vedovanza e questo è provato che nell'alto medioevo potesse accadere ed ecco lei che poi in realtà organizza tutto crea l'esistenza della comunità e poi dello Stato il miracolo di Verissimo lo troviamo anche nella vita di San Clemente che è un altro santo importante perché San Clemente si trasforma in colonna quindi diventa di pietra diventa immobile per sottrarsi alla persecuzione fonte molto antica questa è la rappresentazione degli affreschi di San Clemente a Roma che in realtà invece servono a motivare a legittimare la nascita della lingua italiana quindi stiamo giocando all'opposto termine che conosciamo tutti preside compare nella vita di San Marino non era il preside era un magistrato di una piccola città questa era proprio la carica al quale la pseudomoglie di San Marino si appella e lì la descrizione è proprio quella canonica romana del tribunale tanto che la parola tribuna l'abbiamo vista giù c'è nei pannelli della mostra e nella sua invocazione nella sua orazio si rivolge chiedendo la mediazione degli dei immortali degli dei pagani e della virtù invicta degli imperatori per cui sta utilizzando una modulazione una fraseologia tipica di una società romana per quanto tarda come faceva colui che ha raccontato la vita saperla era prossimo cronologicamente sempre ipotesi c'è un termine per esempio difficilissimo gazofilacium questo invece è un termine che entra nel medioevo per cui abbiamo il secondo canale linguistico che si intreccia vuol dire tesoro vuol dire tabernacolo ed è un termine metà persiano e metà greco e la prova forse insomma diciamo il supporto al discorso del manoscritto che arriva dall'Oriente con dei santi di culti orientali questo manoscritto si è salvato dal più devastante incendio che ci sia mai stato finora di una biblioteca 1904 la biblioteca allora reggia di Torino va in fumo e resta pochissimo questa tragedia della cultura sollecitò anche gli editori a inventare quello che noi chiamiamo ora facsimile cioè a creare delle copie il più possibile vicine alla realtà per garantire la prosecuzione dei testi preziosissimi in casi analoghi questo testo si è salvato e io in questo vedo anche una sorta di premonizione prefigurazione perché si trovava a Gottinga nelle mani di questo personaggio Wilhelm Mayer ben noto ai paleografi studioso filologo tedesco si è occupato molto di scrittura gotica e la domanda era perché fosse là visto che parliamo di San Marino regione Romagna ho guardato chi fossero gli altri santi che avevano la denominazione di Vite Eusebio Vescovo di Vercelli fondatore del santuario futuro di Europa Ambrogio grandissimo santo del quarto secolo una delle più grandi figure della chiesa di quell'epoca Filiberto di Jumege fonda l'abbazia di Pavillino Montier fondatore di abbazie Otmaro di Sangallo fonda l'abbazia di Sangallo Valchirio Valarico in realtà confessore fondatore del monastero delle Ocane in si interrompe questa lista con Santa Maria Egiziaca però Santa Eremita monaca del quarto secolo tra l'altro è l'unico testo scritto su due colonne invece che su una colonna Santa Maria Egiziaca tra l'altro il presidente Mattarella ha notato che vi era una piccola segnatura in un inchiostro diverso che lo potete vedere proprio nella pagina aperta dice in scrittura quattrocentesca Santa Maria Egiziaca vuol dire che si era persa la consuetudine di questa santa tutti gli altri santi poi sono San Marino Sant'Evurzio di Orléans costruttore di una serie di monasteri in Francia ultimo San Mauro di Glenfoy anche lui tra il quinto e il sesto secolo fonda diversi monasteri ed è un discepolo di San Benedetto allora qual è il comune denominatore? è quello di essere dei fondatori santi fondatori fondatori di comunità e allora perché Willemeyer studia San Marino e gli altri santi? perché siamo nel 1904 nasce il concetto di nazione nascono le nazioni politiche e nasce una nazione culturale si potrebbe immaginare che Willemeyer fosse alla ricerca delle motivazioni che sono alla base della nascita di una nazione la nazione tedesca nasce nel 1871 dieci anni dopo la nazione italiana e la radice è proprio nel mondo classico sicuramente ma soprattutto nell'Europa medievale la parola nazione per esempio ricorre tragicamente dopo la prima guerra mondiale nel 1918 quando il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson fonda la società delle nazioni che è l'attuale ONU proprio per salvaguardare le nazioni stesse senza immaginare che qualche anno dopo sarebbe successo la seconda guerra mondiale e che l'ultimo manoscritto contenente la vita di San Marino che si trovava a Münster fosse distrutto in un bombardamento sono alla ricerca della traccia di quest'ultimo manoscritto distrutto perché so che Mayer lo stava studiando e che in particolare la vita di San Marino era servita di modello alla vita di Sant'Egidio che si chiama Saint-Gilles in francese e che è un santo particolare perché è il santo che protegge dalla paura chissà chissà che questo non ci aiuti appunto a scacciare le nostre paure esempio finale di una interpretazione filologica moderna questo è Carlo Levi 1939 siamo sempre in questi anni di guerra e questo è il manoscritto autografo di un romanzo Le parole sono pietre io però a questo punto vorrei spendere due parole di affetto e non di pietra per mio marito che mi ha sostenuto con saggezza con prudenza ha frenato certi miei ardori e ha condotto con grande perizia il percorso sia di tipo diplomatico che di tipo relazionale e con la sodale collega amica compagna d'avventure Mary Smonti con la quale abbiamo iniziato questo cammino e se le parole sono pietre e le pietre creano questo viva le pietre grazie solo per concludere volevamo leggervi il testo che poi subito dopo il video leggerò in cui abbiamo riassunto la dichiarazione di valore di questo manoscritto e perché questo manoscritto può essere ritenuto un possibile candidato alla memoria del mondo allora sicuramente il suo carattere fondamentale è quello fondativo perché di fatto è il testo a cui si riferisce la comunità civile di San Marino non solo la memoria del mondo ha una dimensione universale mondiale quindi i valori che sono contenuti in un testo che viene dichiarato memoria del mondo devono essere si stessi universali Marino fonda secondo il manoscritto una comunità di uguali cioè sono persone che collaborano insieme lavorando quindi la laboriosità e l'eguaglianza tra chi componeva la comunità emerge chiaramente dalle parole del testo il testo non solo dice di Marino che aveva in fondo tra queste persone il compito di garantire che venissero sedati i litigi che ci fosse pace che fosse una comunità aperta quindi accogliente e che venissero difese le persone più deboli e più povere vorrei ricordare che i nostri capitani reggenti giurano proprio di fare questo durante il loro mandato quindi c'è una linea di continuità diretta tra le nostre istituzioni e le parole di quel testo la comunità che è nata cresciuta si è sviluppata nei secoli su questo monte l'ha avuto come riferimento e mi piace pensare però questo è soltanto un desiderio che per la minuzia dei particolari con cui vengono descritti i luoghi per queste caratteristiche che vi dicevo il primo redattore di quel testo che non sappiamo ancora collocare nel tempo e chissà se mai si riuscirà a collocarlo con precisione forse avesse avuto notizia di una comunità di persone che viveva su questo monte e che si riferiva a questo fondatore il fatto appunto che esperti di tre nazioni siano incontrati e abbiano convenuto su questi aspetti tanto da stendere un documento di 17 pagine che è stato consegnato a Parigi ci fa capire che forse tutto comincia da questo viaggio qui ci troviamo all'interno del deposito manoscritti è un deposito particolarmente strutturato come vedete i manoscritti sono pressoché perfettamente conservati e di questo siamo particolarmente orgogliosi all'interno c'è la sezione dei bobbiesi che sono i manoscritti una delle sezioni più preziose e tra questi abbiamo il nostro manoscritto della Vite Sanctorum Marini e Teleonis qui ci troviamo all'interno della Torre Libraria del deposito librario generale della biblioteca in cui su sette piani sono costuditi attualmente circa un milione e trecentomila volumi grazie a tutti 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 bismo stope njegove nasledovati a tutti a tutti a tutti è partito l'ordine dagli imperatori diocleziano e massimiano che tutti gli esperti dello scalpello partissero per le vette sassose dei monti per cavare anche di lì varie qualità di pietre venivano perciò San Leo e il Beatissimo Marino con molti scalpellini alle vette del tormentato monte chiamate lingua volgare e titano la tradizione suffragata da concreti fonti storiche di cui di terminare e il titano e qui fermati per sottrarsi alle persecuzioni raccolse intorno a sé una piccola comunità di fedeli. L'applauso va ai collaboratori di Sommarino e RTV che hanno con la loro professionalità potuto rendere possibile questo video che è stato mandato a Parigi e quindi ringraziamo il direttore Vianello. Grazie. Va al di là della sua testimonianza storica e geografica. Esso riunisce una varietà di valori sociali legati a comunità e contesti geografici diversi. Croazia, Repubblica di Sommarino e Italia. Valori che non sono esclusivamente legati a queste comunità ma contengono una dimensione universale. La costruzione dell'identità sociale, il senso di appartenenza, il rapporto vivo tra le comunità e il territorio circostante, l'impegno attivo delle persone per valorizzare tale eredità spirituale e materiale, i principi universali di libertà e inclusione. L'importanza della conoscenza per le giovani e future generazioni sono tutti valori enunciati nel testo e attualizzati nella società di oggi. La combinazione di questi valori si traduce nella rilevanza universale di questo patrimonio documentario, che sta alla base di un'eredità culturale condivisa e delle nuove forme di cooperazione tra i diversi stati, allo scopo di preservare e mantenere vivo ciò che è stato tramandato dalla vita dei due santi. In conclusione, il viaggio materiale e spirituale che ha portato i due scalpellini, Marino e Leone, dall'isola di Arbe alla costa adriatica italiana, può essere interpretato come un viaggio universale, al di là dei confini geografici fondato su basi e azioni comuni. La sopravvivenza della tradizione manoscritta è tanto più importante perché è rilevante per tre comunità, Arbe, Repubblica di San Marino, Rimini, per le loro identità, per i valori spirituali, per i rituali, per il patrimonio materiale e immateriale. Si tratta dunque di un concetto unico. Quindi auguriamo che venga riconosciuto questo valore. Grazie. Grazie. Grazie.